Alberto Angela. Alberto Angela non più etichettato come il figlio di Pap Piero. Ormai ha la sua strada. I suoi interessi e i suoi spazi. Intervistato dal Corriere della Sera. Il figlio di Piero Angela ha parlato del suo lavoro. Del ritorno su Rai 1 in prima serata di meraviglie e ha omaggiato la bellezza del nostro paese. All'estero spiega Alberto Angela ci sono bellissimi siti che per rappresentano un momento. Preciso di un paese. Il suo periodo d'oro. Magnifico ma in genere unico. L'Italia invece straordinaria per ci abbiamo capolavori in tutte le epoche. Ogni periodo che ci ha preceduto ha lasciato delle meraviglie. Una genialite che fa parte del DNA del nostro paese. E dopo aver parlato di lavoro. Si entra nei temi picaldi. Nonostante i robusti studi di paleontologia. Agli inizi televisivi c'era chi diceva fosse figlio di Pap. Dice il giornalista d'Alberto. Ma la risposta di Angela Junior non tardata ad arrivare. Sono sempre andato avanti per la mia strada. I gradi si prendono sul campo e poi la gente a giudicare. Ho dato il massimo con umilte cercando di farmi perdonare il cognome che porto. Ma oltre all'appellativo figlio di Pap. Alberto Angela. Da tempo. Considerato un'icona sexy. L'argomento la fa arrabbiare. La lascia indifferente. La lusinga. Sar un po' vanitoso. Chiede il corriere della sera. Sorrido e continuo a lavorare. Replica Angela. Per niente. Il mio carburante televisivo sempre stato il background scientifico e la voglia di fare da ponte. Tra il mondo della ricerca e la gente comune. Si dice che la scienza non finita fin c'è non divulgata. Cos? Se non la si divulga che senso ha? Virgolette. Altro su MSN. Angela spiega la talassemia. 16 dicembre 2017. RaiPlay. Sponsorizzato. Maggiore maggiore scarica Office 365 e ottieni 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Acquista maggiore maggiore.